E' dedicata al tema della verità, l'ottava edizione dell'arte della felicità, rassegna di incontri e conversazioni che si terrà a Napoli dal 22 marzo al primo aprile. Tra gli ospiti, che discuteranno e si confronteranno nelle dieci giornate della manifestazione, la filosofa ungherese Agnes Heller, autorevole allieva di Lukács, Mona El-Tahavi, blogger e giornalista egiziano-americana arrestata e torturata durante le proteste di piazza Tahrir al Cairo, lo scrittore berlinese Ingo Schulze, il semiologo visuale francese François Jost, i filosofi italiani Aldo Masullo e Gianni Vattimo e molti altri ospiti ancora. Allora l'arte della felicità mi pare che abbia questa straordinaria forza di strappare sia pure una volta all'anno, tutti gli uomini capaci di ascoltare, tutti quelli che hanno un minimo di sensibilità, strapparli alla banalità della loro vita quotidiana. Banalità significa abitualità e quando si diventa prigionieri dell'abitudine si perde il senso di sé. Il senso di sé nasce dalla rottura, dall'improvvisazione, dal dover rispondere a una domanda non prevista. L'arte della felicità è nata da un'idea di Luciano Stella e Francesca Mauro e si è consolidata negli anni come evento indipendente e in prevalenza autogestito, con la collaborazione volontaria di una rete di persone che si è venuta aggregando a sostegno dell'evento, nonché di istituzioni culturali come il Consolato Generale Americano, l'Institut Francais Grenoble e il Goethe-Institut di Napoli. Quest'anno la rassegna si completa con un'importante iniziativa sociale, un ciclo di incontri di filosofia, con studenti e detenuti delle prigioni di Poggio Reale, Secondigliano, Pozzuoli, Carinola, Bellizzi Irpino, curata e realizzata dal professor Giuseppe Ferraro. Noi affrontiamo ogni tema con relativismo e incertezza, nel senso che ci interroghiamo sulla verità non solo per mettere a verifica le verità assolute, io penso che ognuno di noi ha a che fare con la verità, sul lavoro, nel conflitto amoroso, nel conflitto familiare, dico conflitto perché a volte perseguire eccessivamente la propria verità, il proprio punto di vista, si diventa intollerante e non si riesce a comunicare con gli altri. Io come Assessora alle politiche giovanili ho indeso promuovere e stare vicina a questo evento perché tutta quella che è l'irrequietezza interiore di questa generazione che tende a scappare da questa città, trovi un luogo dove potersi esprimere e dove poter trovare l'interlocuzione filosofica e sociologica giusta. Il programma completo degli eventi, che comprende anche un laboratorio di teatro e danza e un